Cari amici, video esagerato, video che spacca, ve lo dico subito così tagliamo la testa al toro. Io svuoto il sacco, voglio svuotare il sacco, vi dirò due o tre, così le due o tre segreti. Ma mi raccomando, voi teneteli per voi e non dite niente a nessuno. Primo segreto, la telefonata c'è stata, la famosa telefonata c'è stata. Berlusca lo ha chiamato. Egocentrico come è? Il Berlusca già pregustava di presentarsi sulla scena, di tornare protagonista in grande spolvero, e di presentarsi come il grande pacificatore che con le sue conoscenze personali mette tutto a posto. La risposta? Io ve la dico, ma non dite a nessuno. Putin gli ha detto, caro Silvio, vai a prenderlo nel posteriore, aulicamente detto culo. Te, la tua nuova badante bionda e la nipote di Mubarak. E questo è un bel segreto, eh? Poi, dovete sapere che anch'io qualche telefonata l'ho fatta. Ho telefonato a Ramza Kadirov. Lo conosco, lo conosco bene. È un po' più giovane di me. Ma giocavamo a pallone insieme. E che mi ha detto? Eh, mi ha detto, caro Giorgio, niente di personale, ma i vostri soldati ve li rimando indietro, tagliati a fettine. Mi ha detto anche, e io lo faccio, di dirlo, di dirlo a tutti gli italiani, di prendersela con Draghi e con chi ha votato per l'invio dei soldati. Ha detto anche di invitare quelli del PD, quelli del PD, a stare più attenti la prossima volta, quando raccolgono fondi, quando fanno le raccolte fondi, nelle loro feste dell'unità. Kadirov vi dice di stare attenti, di fare maggiore attenzione, vi invita a fare maggiore attenzione. Su chi finanziate, su chi date i vostri soldi, a chi date i vostri soldi una volta che li avete raccolti, durante le feste dell'unità. E io ve la riporto questa cosa qui. Tra l'altro Kadirov ho anche visto, non ditelo sempre a nessuno, che è informatissimo su Bibiano, sulle mille Bibiano italiane, sa tutto, sa tutto. Sanno più loro, sa più Kadirov, che gli italiani che vanno a votare e che ascoltano ancora Letta. È una cosa incredibile, mi ha sorpreso. Questo aspetto della sua personalità non lo conoscevo. Kadirov si informa su tutto. Non c'è foglia che si muova, non c'è iniziativa del PD che il PD metta in piedi, che Kadirov non la sappia. Come fa? Non lo so. Comunque io riporto. E anche questo è un bel segreto, eh? Attenti amici del PD, attenti amici pidini, bibiani, attenti a chi finanziate con le feste dell'unità. Attenti. Se no poi succede come con D'Alema, che adesso traffica in... Ma è tutto regolare, eh? Tutto regolare. Tutto regolare. Tutto regolare. Che poi vada tanto bene, forse, 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 forse magari, magari, magari anche no. Ma è tutto regolare. E poi, terzo segreto, anche questo ve lo dico piano, non ditelo a nessuno, sapete perché Biden non manda soldati nel teatro di guerra, soldati americani, né in Ucraina? Lo sapete perché? Perché dice, cari europei, armiamoci e partite, lo volete sapere? Perché i militari USA, l'esercito USA, non lo caga nemmeno, non risponde a Biden, non risponde a Biden. Lo sfanculano e lui lo sa benissimo, risponde a Donald Trump, alziamoci in piedi, e questa cosa, se la so io, se la sapete voi, la sanno anche Putin e Lavrov. Giorgio Riccardini, all'anagrafe, Giorgio Riccardini su YouTube, non vi dico neanche di iscrivervi, se lo fate, non vi perdete queste perle, e le potete avere gratis. Adesso sta a voi. Alla prossima.